Eder McPallister Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber del gruppo The Borderline, indagato per omicidio stradale e lesioni che era alla guida del SUV Lamborghini, coinvolto nell'incidente in cui la scorsa settimana è morto Manuel, il bimbo di 5 anni, a Casal Palocco, Roma. Nell'incidente erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. La procura di Roma, il 21 giugno, ha intanto disposto una consulenza nell'ambito dell'inchiesta. In particolare i PM Capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che a velocità stesse viaggiandola a Lamborghini, guidata da Di Pietro. Ha certamente in corso anche sui cellulari dei 5 giovani, che erano nel SUV per trovare foto, video o chat utili alle indagini. Edermetalliser. Grazie. Grazie.